I commercianti aquilani che hanno tavolini esterni possono somministrare cibo e bevande senza problemi. In seguito all'allarme alzatosi per la notizia serpeggiate in città sulla diffida da parte della polizia municipale ai commercianti per la somministrazione di cibo e bevande all'esterno in virtù dell'ordinanza sull'esposizione esterna di frutta e verdura, negano categoricamente sia il sindaco Biondi sia l'assessore al commercio Piccinini la fondatezza della notizia. Non c'è alcuna diffida da parte della polizia municipale ai commercianti. Ci sono pressappochismo e disinformazione alla base di una notizia non notizia, dice Biondi, che metterebbe in relazione un'ordinanza sul divieto dell'esposizione all'esterno di frutta e ortaggi di cui rivendico la giustezza e la legittimità e il sacrosanto diritto di bar, pub e ristoranti di sfruttare la stagione estiva per l'attività all'aperto. Questa città, sottolinea il sindaco, di tutto ha bisogno meno che di un sentito dire, che non corrisponde in alcun modo alla realtà e che getta il panico tra coloro che faticosamente ogni giorno cercano di risollevare l'economia locale con grandi sforzi e gli incomiabili sacrifici.